Continuiamo a fare il nostro viaggio nel mondo degli accordi, dell'accompagnamento Questa volta però prenderei come esempio una canzone famosissima che conoscono veramente tutti Lavorerei su questa, ti chiedo che anche se non ti piace, qual che sia, non importa Cerchiamo di capire quali sono le regole che possiamo estraporare da una canzone così È famosissima di Beatles, Lady B Andiamo a vedere subito quali sono gli accordi, il primo è da maggiore Quindi che ho fatto? Ho semplicemente preso l'accordo nella posizione fondamentale Do, Mi, Sol e sottosunato la fondamentale dell'accordo, ovvero Do, quello che gli dà il nome Il Sol, che è l'accordo seguente, l'ho fatto utilizzando il rivolto Quindi, Do, Mi, Sol, Si, Re, Sol Poi abbiamo La minore, sono andata a suonare Do, Mi, La Però, attenzione, anche se suonassi solo Do, Mi, andrebbe bene Vediamo Sentite? Suonava bene uguale Comunque, facciamo che suoniamo Do, Mi, La Adesso c'è l'accordo di Fa E è Do, Fa, La Sempre ragionando al rivolto, a non spostarmi troppo con queste mani Poi di nuovo torno a Do Di nuovo a Sol Quindi facciamo una piccola variazione Che è Fa Suonando Do, Fa Mi, Ra, Do Quando arriva Do suonano entrambi i Do Questo è un piccolo dettaglio che ci interessa poco Quindi Che cosa dobbiamo fare adesso? La prima cosa a cui dobbiamo ragionare, naturalmente, dopo aver individuato i rivolti È a come dare dinamica ad un brano Vediamo oggi solo la parte della strofa In modo che cominciamo a vedere una cosa che non abbiamo mai fatto finora A che serve la dinamica? La dinamica serve a dare movimento a un pezzo Lo possiamo anche suonare tutto il tempo uguale Però dopo un po' rompiamo Quindi che dobbiamo fare? Dobbiamo creare del movimento Non so se hai mai visto l'onda di una canzone Quel grafico che in genere è fatto così Comincia più piano, poi cresce, poi ritorna, poi ricresce In questo modo possiamo visualizzare la dinamica Quindi abbiamo vari modi per poterla fare Suonando ad esempio Prima molto piano, poi suonando più forte Ricordiamo sempre di cadere, più possibile Però un altro modo è suonare in maniera diversa Ad esempio ribattiamo l'accordo Che è una cosa simile a quella che fanno loro Per come la vedo io Una cover uguale all'originale è una cover inutile È inutile per un semplice motivo Perché l'hanno già fatta loro E la faranno sicuramente meglio di te Per cui qual è la nostra, la strada che dobbiamo intraprendere? È andare a cercare di personalizzarla Di cambiarla un po' Ci dobbiamo anche prendere il coraggio A volte di cambiarla molto È chiaro che che ascolta potrebbe rimanere piuttosto spiazzato Però se lavoriamo al servizio della musica Dobbiamo assumerci le responsabilità di quello che facciamo E come ripeto Una cover uguale all'originale è una cover inutile Andiamo a vedere un metodo che tra l'altro è diffusissimo Per arrangiare Ci tornerà utile un sacco di volte Per cui impariamolo All'inizio sembra piuttosto difficile È questo qua Qui vabbè ho suonato Fa, mi, re, do Tutte e due le mani Non è una cosa importante Che cosa ho fatto? Se il primo accordo io lo suono Do, mi, sol Parto sempre dalla nota più grave Più bassa Adesso suonerò prima le due note più in alto Quindi mi e sol E poi do Quando vado a sol Suonerò sol, re Si Questa cosa all'inizio non viene mai Ma ti garantisco che una settimana di applicazioni Cominci a vedere già ottimi risultati Andiamo a vedere semplicemente questa prima parte Sentiamo come è dinamica E quindi già ho creato quel movimento Che non fa annoiare a chi ascolta E che comunque ci spinge alla creatività Studiamolo bene questa cosa ci vuole, ripeto, tempo La musica bisogna capire quello che si sta facendo e perché Noi stiamo facendo così Perché Lavoriamo in maniera dinamica Poi capito il perché Bisogna solo provare e riprovare Siene che non viene La prossima volta vediamo il ritornello Così vediamo un altro modo per arrangiare Sempre per la questione di dare dinamica Un abbraccio Grazie 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 a tutti.